E voi che ci fate qui? Non siete a scuola? La scuola è finita e Tanghetti li promuove tutti! Divano caravella angolare in tessuto antimacchia con panchetta estraibile e puff contenitore a 1299 euro! Promosso! Letto con contenitore bellaggio più materasso matrimoniale 799 euro! Promosso! Coltrona titti, alza persona, due motori a 595 euro! Promossa! E ancora tante altre promozioni da... Tanghetti Salotti! Alla sede di Cazzago San Martino, a Beckamo in via San Giorgio, anche a Brescia con Cesio, in via l'Europa!